Siamo con il Sinaco Mauro Armelao, anche quest'anno la Marciliano, un grande successo. Una bella giornata, una giornata di festa che ha visto ovviamente Chioggia protagonista, veramente gente e persone che lavorano un anno con passione, con amore verso la città, verso il Paglio, che ha raggiunto la 33esima edizione, quindi una cosa importante, un appuntamento importantissimo per la nostra città a inizio stagione estiva. È un evento molto sentito, che crea comunità, siamo veramente molto affiatati e questo fa molto piacere. Abbiamo lavorato bene tutto quest'anno con le scuole, con la città, con i rapporti con le altre città e si vede, si vedono persone molto felici di essere qui. Il Sinaco, un appuntamento conisce storia, tradizione e anche eventi di cui lei si occupa? Sì, storia, tradizione, cultura. Qui c'è un po' tutto, c'è una città impegnata in questa manifestazione e quindi diciamo che diamo il via veramente agli eventi importanti per la nostra città. E poi adesso il prossimo appuntamento sarà quello della festa del pesce dal 7 al 16 luglio in corso del Popola Creoggia. Quindi attendiamo anche tanti turisti, tanti cittadini che arriveranno da fuori regione per assaporare dell'ottimo pesce cucinato dai nostri pescatori.